Roberto Brero è l'abbà del Palio di Pianezza, ma è anche figlio di Camillo Brero, poeta e scrittore della tradizione più piemontese di Così Non Si Può. Cosa significa per lei un'eredità come quella familiare spesa per la tradizione di un palio? Innanzitutto sento proprio questo legame con quello che ha condiviso mio papà per tutta la sua vita, cioè ha speso veramente per il Piemonte, per la cultura piemontese, la sua vita. E penso che l'eredità più bella che mi ha lasciato mio papà è che è il credere nei propri valori, delle proprie tradizioni, della propria terra. E il nostro palio, anche grazie a mio papà, è nato proprio con questo spirito. Unire un paese dividendo i borghi e i cantum, ma per capire meglio la propria tradizione, la propria cultura e la propria piemontesità. Mio papà ha speso questo per il Piemonte. Io spero che, anche se adesso ci ha lasciato quest'anno, ma rimanga questo. E anche per noi l'impegno è proprio per continuare che queste tradizioni, e non solo tradizioni, ma questi valori che abbiamo unici, vengano mantenuti anche nel futuro. Il nostro palio vuole lavorare per questo. E proprio in questa occasione noi siamo felici di essere qui a Palazzo Cisterna, dove abbiamo esibito i nostri drappi, che sono poi l'espressione più bella della nostra città. Noi speriamo che questo sia un viatico che ci porta avanti e ci faccia conoscere anche di più, perché ci sono tante realtà belle come la nostra, ma Pianezza ha questa eccellenza. Mio papà penso che mi abbia insegnato questo. Mio papà penso che mi abbia insegnato questo.